Oggi tocca a lei la corazzata tedesca Schifflen, secondaria letteralmente infinite che potranno sparare fino a 12.5 km, esattamente, con una penetrazione dei 105 pari a 26 e 38 per i 150. Mettete esattamente i potenziamenti suggeriti, la terza e l'ultima slot e anche la quarta, la quinta. Nella quarta io metto la propulsione perché mi trovo bene così, nella seconda metto ricerca edrofonica modificata 1 perché mi trovo bene così, nella prima vado a preservare le secondarie. Se non sparate con le secondarie c'è poco divertimento. Ricerca edrofonica molto efficace, 3.8 e 5.5 km. Resistenza poca per una corazzata di livello 10 anche per quanto riguarda la protezione siluro, molto importante. Abbiamo anche i siluri che arrivano fino a 13.5, non è uno scherzo, è tutto vero. Incursione aerea per attaccare i sommergibili fino a 11 km, difesa contraerea abbiamo esattamente 9 esplosioni che non sono poche. Con un danno continuo tutto sommato molto interessante, manovrabilità rapidissima, mimetizzazione, veniamo spottati solo a 12.6 km tramite ovviamente il potenziamento e il capitano speciale che è d'obbligo, dovete avere il capitano speciale per poter giocare questa nave, altrimenti vi renderà molto di meno. È una nave molto semplice da settare, andiamo a mettere tutto quanto per quanto riguarda appunto le secondarie e ancora il mimetismo, l'esperto delle riparazioni d'emergenza, scarica di adrenalina obbligatoria e ancora rinvigorimento e in ultima analisi esperto di demolizioni. Sarà una partita piuttosto piacevole secondo il mio punto di vista, niente di eccezionale, però vedremo proprio in azione quello di cui vi sto parlando, non vi svelo troppo altrimenti non c'è gusto. Abbiamo poi la mimetica Aquila tedesca. Ragazzi, come sempre vi chiedo un mi piace per supportare il canale Elmond Davis, se volete provare il gioco completamente gratuito e siete nuovi iscrivetevi e il link è in descrizione con alcuni vantaggi che vi verranno dati giocando appunto sul gioco. World of Warships e ancora, se volete aiutarmi ulteriormente potete valutare un abbonamento a partire da 0,99 centesimi direttamente sponsorizzato dalla Wargaming. Venerdì, questo come ogni venerdì alle ore 15 live sul canale YouTube dove giocherò World of Warships con tutte le navi del caso. Andiamo a giocare una partita rilassante fino a un certo punto con la Shipland, via! Andiamo a giocare una partita con la nostra corazzata tedesca. Siamo in una mappa, la via del guerriero, modalità supremazia, 5 corazzate, 3 incrociatori, 3 cacciator penieri e un sommergibile. Allora, sinceramente, io vorrei andarmi a infilare tra Bravo e Charlie per vedere quello che ne viene fuori. Cosa c'è abbiamo a sinistra? È chiamato Yoshino Alland. A destra direi che sono ben messi. Ushakov, Montana, Indenburg, 2501, Alland e poi l'izumo. Vediamo cosa vuole fare da grande. Abbiamo anche una Zao buttata lì per caso. Ogni tanto escono le Zao. Vi ricordo che la Zao è una nave storica del gioco perché all'inizio c'erano due rami, quello americano e quello giapponese. La Zao faceva parte appunto di questa lista di navi presenti all'inizio. Quindi è una nave molto storica, ha subito diversi cambiamenti nel tempo, anche aggiornamenti dal punto di vista per poter contrastare, ovviamente, i sommergibili. Quindi è una nave storica, non ha tanta storia, ecco. Però il 90% delle persone la gioca in maniera non proprio corretta perché è una nave abbastanza tecnica. Se entra al regime è molto fastidiosa. Però ecco, già quando vedete una Zao o in generale una nave giapponese che va vicino le isole, diciamo che non ci siamo, ok? Perché quella nave deve stare, ha bisogno di molto spazio. Più spazio ha, più diventa cattiva. È fastidiosa. Frenata, virata, accelerazione, retromarcia, tutte cose che, insomma, che sappiamo o che dovremmo sapere, ok? Adesso qui noi fondamentalmente aiutiamo il Benham. Sappiamo che la Shimakaze non c'è, quindi potrebbe esserci Gearing o Velos. Conosco entrambe, tutte e due le navi. Le conosco a memoria. Tutte quante. Tra l'altro noi facendo questo movimento potremmo andare a beccare anche la Shimakaze. Se l'Halland decide di vivere ancora per qualche secondo, lo becchiamo in... Lo becchiamo alla grande. Semplicemente l'Halland deve respirare e non fare cose strane. Noi volendo abbiamo anche il lato del DEX. Il posizionamento iniziale di questa nave è fantastico. Cinque siluri. Abbiamo il Velos davanti a noi. Con una ricarica tutto sommato buona. La cosa fantastica è che non vengo neanche spottato quando sparo. Ricerca etrofonica adesso perché mi sono messo in una zona... E vabbè, una cittadella. Certo, 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 certo. Sì, 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 una, una, proprio una era. Era proprio una la cittadella. Le volte il gioco non lo capisco. Oh, ma che mo' mi fai quella cosa che non clicchi bene. Infatti, tanto è vero, non mi clicca neanche sulla minimappa. La partita di prima neanche lo faceva, quindi dovrei chiudere e riaprire il gioco. Ma che fastidio sta cosa. Che fastidio. Allora, c'è la montana che mi esce davanti a breve. Dobbiamo fare un po' di attenzione. Questo è l'aereo della montana. E sono un po' aperto, lo sai? L'Alland... Ok. Ma chi guarda la montana? Siamo al limite. Mi viene da ridere, Fra. Nuovo cacciador peniere... Il nostro nuovo... Noi siamo un cacciador peniere, in realtà. No, Fra, ma non dovevi... Cioè, non dovevi farmi questo danno, perché... Forse questi due sono un po' troppo preventivi. Vediamo se lui lo invogliamo a fusciare. Lo prendiamo nella trappola. Una rappola! Non penso. Vabbè. Peccato. L'idea era buona. La Zao adesso da... Da dentro il cap. Ah, incredibile. Bravo. Avanza, avanza. No, Fra. Mi fai male? Mi fai 30? Però io ti faccio 4 siluri. No, 2 siluri. Avanziamo. Troppo a destra. Perché lasci magari se mi spara? Io non capisco. Viene incendio. Ho il lato della Nofer. Ovviamente sparo a lei. Mi fai male? No. Ci stiamo divertendo. Siluri anche da questa parte, Fra. Non vorrei dare... Non vorrei rompere le scatole. Adesso è il momento di chiudere il lato. Perché sennò poi... Direi che esageriamo un po' troppo. Chi è che mi sparo ancora con le secondarie? Via l'incendio. Bellissi siluri, eh? È una scena raccapricciante. Non so se essere felice di quello che sta succedendo oppure no. Gra... No, eh... No, no. Riamato. No, non mi dovevi aiutare. No. Eh, cavolo. Ho fatto tutto da solo. Cioè... Potevi anche star fermo, no? Dovrebbe andare l'Halland. Vabbè, ma c'è sta. Non fa niente. Andiamo a destra. Eh, lo so che sta... Sta da queste parti. Noi non abbiamo ricerca telefonica. Diciamo che ce la siamo giocata... Da 1 a 10 ce la siamo giocata bene... 5 e mezzo. Mi sono preso troppi danni. Potevo far più male alla montana. E... E nulla. Qualche colpo in più sulla nofer nel passaggio lo si poteva dare. E in tutto questo... Ehm... Il death. Non dico che dovevamo one-shotarlo. Però, sai com'è? Colpo in più si poteva anche dare lì. Insomma, abbiamo fatto schifo. E poi poi ho rassunto. Ma è schifissimo, proprio. Non è che vedo più di tanto la nave, però... Anziché tenermi il colpo in canna... Sparo. Squadra nemica... Un po' da rivedere. I colpi ovviamente non vanno. Loro hanno una shiffle in I2. Siluri che probabilmente sta qua. Ce l'hai proprio davanti, dai. Ma non mi clicca! Che rabbia quando non clicca! Complimenti. Complimentoni, proprio. Però abbiamo una ricarica così rapida. Eh, però il siluro mi sa se prendessi duro. Mi sa che si prendessi duro, tutto cos'è. La cosa bella di questa nave è il riposizionamento. La ricarica rapida poi dei cannoni scena addirittura a 21 secondi. Adesso sta... Ogni 21 secondi. Che ti devo dire, non è per niente poco. E quindi capirete bene che è tanta roba. Questo tiro l'ho un po' azzardato. E infatti non è che abbiamo brillato. È una nave fantastica. Veramente fantastica. Però dovete giocarla in velocità e non dovete avere paura. Se c'è l'occasione dovete andare, punto e basta. Ma l'occasione vuol dire... Non è che vado uno contro cinque. L'occasione vuol dire... Posso fare magari una giocata in cui mi vado ad infilare. Do fastidio e la faccio. Cerchiamo di comprendere e distinguere anche le giocate rischiose, tra virgolette. Non è che dobbiamo fare cose senza senso. Radar per chi? Incendio, ovvero. Un incendio. Conmergibile sta qua. Grazie, così aumento un po' i miei danni che sto... 140, un po' pochino. Non so se riesco ad evitare i siluri del... Mi fa male. Grazie. Molto gentile. Abbiamo capito tutti... L'hanno capito tutti che stai qua davanti a me. Tanta pazienza. Ma guarda qua quanti danni mi hanno fatto. Ho capito che... Sei proprio davanti a me, Fra. Hanno capito tutti! Non ho la ricerca è troppo forte. So che stai là! Porca miseria! Non recupero più vita. La scifra è una FK. Eh, non so che dire. Non so veramente che dire. Eh, sono morto all'ultimo, Fra. Incredibile questa cosa. No, è troppo vicino, quindi c'ho... Uh, che fortuna. Meno male. Non sono stato distrutto perché era entro i due chilometri e nove, quindi i siluri facevano solo il 10% del danno. Punteggio squadra, 1.500... Rapporto dettagliato. Abbiamo fatto male sicuramente alla Montana e poi, insomma... Ecco, se avessimo fatto un devastante sul death inizio partita, poteva essere un pochino diversa la situa. Però considerate che in 10 minuti e 42 secondi di tempo è successo quello che è successo. Da apprezzare la Shimagaze che a un certo punto mi ha sparato con mille punti vita. E soprattutto lo 0, la Sun Yatsen. Chi è che è arrivato prima? L'hai amato? Ma hai fatto il devastante, vero? Fra. Sulla cosa. Io che ho fatto? Una cavolata. Doppio colpo, addirittura. Alland e poi Dridenhout. Va benissimo. L'Alland molto bene. Credit elevati alle varie spese. 385.000. In uno scontro ravvicinato, ovviamente, questa nave risulta essere molto più efficace perché potrete utilizzare i siluri e le armi secondarie che fondamentalmente vi garantiranno la possibilità di fare giocate extra. Se avesse avuto una corazzata, per esempio, giapponese, ovviamente non sarei mai andato in quella zona. Sarei stato lontano e avrei sparato. Quindi questa nave specifica ha un gameplay completamente diverso rispetto a tutte le altre che avete visto. Cosa molto importante, cercate di avere la copertura giusta con le isole in modo tale da avere appunto la sicurezza che gli altri non vi possono sparare o quantomeno vi vedano per poco. In modo tale che poi voi vi posizionate, fate quello che dovete fare e qualora ce ne fosse bisogno, con la vostra velocità vi riposizionate e andate dall'altra parte, come abbiamo fatto noi. Abbiamo subito un po' di danni nel finale sul sommergibile, però, ripeto, la nave da quel punto di vista non può garantire una resistenza, non offre una resistenza adeguata. Ragion per cui con pochi siluri, se ben piazzati, sommergibili o caccia torpediniere, verrete distrutti senza pietà. Avete inoltre poca vita che dovrà essere in qualche modo gestita per lo scontro nell'uno contro uno. La ricerca edrofonica utilizzatela nei momenti in cui è necessaria, ma veramente necessaria che dite ok, c'è il caccia torpediniere, quello può lanciare i siluri, se mi arrivano alla fine, tac, ricerca edrofonica, siete più sicuri. Per il resto è una nave estremamente divertente e estremamente anche complicata da giocare, perché se vi posizionerete male, d'accordo, come magari c'è stato per un momento io che andavo leggermente più avanti rispetto all'isola, e là son cavoli, non venite perdonati, venite one-shotati, che è la cosa, tra l'altro, è ben diversa. Ragazzi, il video è terminato, io come sempre vi ringrazio per i commenti e le visualizzazioni, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao!